Jay Indley, l'australiano d'Abruzzo, ha ipotecato il Giro d'Italia. Cresciuto nell'aran di Umberto Di Giuseppe, ha staccato Richard Carapaz sul passo Fedaia e avrà più di un minuto da difendere nella cronometro di domani. E torna ad essere protagonista anche Giulio Ciccone, terzo sul traguardo ma con tanti rimpianti, perché sul Fedaia era il più forte di tutti. Il vincitore di giornata, Alessandro Covi, è stato il più furbo sull'ascesa del passo Pordoi ad anticipare i fuggitivi e poi, bravissimo, verso la marmolata a difendere il vantaggio. Giulio Ciccone. Sì, ci tenevo a vincere questa tappa, è davvero un peccato per come è andata un po' tatticamente. Le gambe, secondo me, c'erano per far bene. C'è un po' di spiacere, però dai, aspettiamo. Cosa hanno tentato tatticamente? Ma c'è stato, diciamo che ci siamo studiati tanto sul Pordoi, io, il DSM, il Jumbo Isma, un po' tutti i corridori lì e forse abbiamo sottovalutato un po' il Covid, è andato fortissimo e niente, è andata così, complimenti veramente a lui, ha fatto veramente un grandissimo numero e penso che se la merita veramente. Come giudici il tuo giro, Giulio, dopo la vittoria di Cogna? Non è stato un giro ottimo per me, la condizione era quella che era e ho provato a fare il massimo con quello che avevo, considerando tutti i problemi e tutto. Penso che sia un buon punto di ripartenza. e ho provato in diverse tappe, una vittoria è arrivata, oggi diciamo un'altra bella prestazione, quindi non mi posso lamentare, è stato un bel giro e ovviamente forse le ambizioni di restare con i migliori sempre sono svanite subito, però diciamo che con tutti i problemi era anche abbastanza prevedibile. Il rosa, il seno, il passo...